Il calcio d'inizio è ancora a pochi istanti e si comincia. Un saluto da Piero Gipardo accanto a me come d'abitudine, Stefano Nava per il commento tecnico. Altra occasione per migliorare il loro bottino personale in questa Weekend League, match che ha per protagonisti Albion e Royals. I tifosi hanno voglia di assistere a una bella partita di calcio, credo proprio che saranno accontentati. Tanta qualità da una parte e dall'altra, sono sicuro che ci divertiremo. Hong Min Son Palla rubata in una zona pericolosa È un Min Son L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore per spezzare la parità. Era a pochi metri dall'azione, ha potuto giudicare in maniera chiara l'intervento del giocatore. Mi pare ci siano dubbi. Beh, ma qui secondo me oltre al rigore ci stava sicuramente anche il cartellino, che ne pensi? Non c'è dubbio. Ha commesso un fallo molto duro. Freddissimo qui! Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Con il numero 21, Anthony Marzial! Teio Occhio all'avanzata Occhio a Mertens Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Portiere che sventa la conclusione senza particolari problemi Hong Min Son Servito Son Vi ricordiamo che in occasione della partita Ecco Musa si soccora La girasola Anderson Lucas Moura Lucas! Può segnare da lì Attenzione! Ecco il gol! Match che riprende all'allungato portandosi sul 2-0 Cambia gioco dall'altra parte Ha recuperato palla Non c'è fallo, dice l'arbitro Pallone perso Nainggolan Poteva far meglio Certamente qui Mertens Avers Palla per Sissoko Hakimi Prova l'Albion Immobile Occasione per accorciare le distanze Attenzione! Tris Mertens! Eccolo che colpisce! Ha sfruttato al meglio l'occasione che gli è capitata Il punteggio adesso è di 2-1 Ha segnato la formazione di casa Palla per Sissoko A spazio Il pressi nel difensore ha costretto l'attaccante a portare il pallone oltre la linea Nainggolan Dries Mertens Martial La squadra ospite adotta la tattica del pressing per interrompere subito la manovra avversaria Con attenzione L'attenzione di non scoprirsi troppo e di usare le forze per non arrivare stanchi a fine partita Attenzione Immobile Intervento pulito Fa suo il pallone sulla fascia Mertens Recupera la palla e fa ripartire i suoi Prosegue qui dell'avanzata Nelson Semedo E' un minzon Ecco Sissoko Occhia Kai Avertz Ecco Sissoko Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco Nainggolan Ansaldi Immobile Occhio a Mertens Attenta qui la rifiuta Non trattiene, attenzione Che classe è questo giocatore Grande classe direi E' un minzon Recupera la palla con un contrasto deciso, va corretto Immobile Dries Mertens Sono sotto lì un gol, vedremo se questo tikitaka si rivelerà efficace Deulofeu Poteva fare di più per evitare il gol Immobile 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 Deulofeu Allontana il pallone Mertens Mertens Avvicendamento nelle file della formazione ospite Esce dal campo Si riprende a giocare per i secondi 45 minuti di questa sfida valida per la full champions weekend league Match da seguire Match da seguire tutto gonfiato Fino al fischio finale Per scoprire chi andrà avanti e chi tornerà invece a casa Tocco verticale interessante Pallone in profondità Tiro respinto ma la palla è ancora in gioco Ansaldi L'hanno scampata bella qui eh I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo Un'altra buona giocata A metri davanti a Sam Mertens Vantaggio dunque si gioca Bravo l'arbitro qui È punizione Posizione invitante Calcio di punizione La buona posizione Possono passare a condurre Se lo sfrutteranno a dovere Adesso che lo rivedo Mi sento di assolvere il portiere Pier poteva fare davvero poco Su questa conclusione Distanza troppo ravvicinata Sarebbe servito un miracolo Per impedire la palla di entrare Palla per Sissoko Servito Son Lucas Si libera bene qui Dembele Ecco Sissoko Dembele Ha l'occasione per riaprire il match Ecco Sissoko Humminson Henderson Occhio a Dembele Hanno l'occasione Attenzione Per trovare il gol del pareggio Ottimi i suoi passaggi oggi Dries Mertens Attenzione Immobile Lanciato Vantaggio che comincia a farsi importante Due gol da recuperare Una per gli avversari E ancora presto però Per cantare vittoria Eh si fa dura per loro Anche perché Oltre a tentare di segnare Devono fare attenzione A non subirne altre In Tresa Non facile Per quanto si è visto Finora A campo l'Albion Vediamo se sfrutta questa occasione Verticalmente immobile Palla ancora lì Risultato che non cambia Merito soprattutto del potere Allontanano il pericolo Arriva il fisco dell'arbitro Dopo la segnalazione del guardaline Dunque si riparte col calcio di posizione Sì fuori gioco Che c'era Giusta l'interpretazione dell'arbitro Intervento fondamentale Lancio impreciso di Mertens È un minzon Gran palla in mezzo Palla pericolosa Bravissimo qui Ci sono metri per andare C'è spazio davanti a sé È la sua terza rete oggi Atric Tre gol Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ottimali Adesso tocca alle due squadre Farci divertire Pierluigi Pardo e Stefano Nava Pronti per questa partita Altra occasione Per migliorare il loro bottino personale In questa weekend league Partita che promette grandi emozioni Sfira dal significato particolare Per i padroni di casa Una vittoria Li proietterebbe alla divisione successiva A guai e a fare calcoli Devono scendere in campo E pensare solo a dare il massimo E giocare il loro calcio Come hanno fatto finora D'altronde Palla persa da Guero Recupera un pallone pericoloso Qui Bravo qui Non si arrende Recupera il pallone Lucas Regala qui il pallone Lautaro Martinez Palla gol questa 1-0 Eccolo il primo gol della gara La messa a giro Con l'interno del piede Potrei dire che non Poteva proprio arrivarci Rivediamo tutto nel replay Hanno aperto le barcature Con questo gol 1-0 E sarà a caccio di punizione Può crossare da lì Occhio a Mertens Lucas Pallone che torna agli avversari Deulofeu Mertens Potrebbe essere il gol del pareggio Fuochi d'artificio in questi primi minuti Gol da una parte Gol dall'altra E gara in parità Ci stiamo divertendo Mamma mia Anche il pubblico Sulla tribuna Sembra gradire lo spettacolo Speriamo continui così Siamo di nuovo in parità Grazie al gol dell'1-1 Cercano di aprire La difesa avversaria Leggerezza Qui del Kun Che finisce col perdere il pallone Sarà battuto dunque Un calcio di punizione C'è il lancio sulla fascia Ciro immobile Possesso gestito male dall'Albion Possibilità di contropiede Lautaro Martinez Palla per Kanté Pallone riconquistato agli avversari E' il Kun Aguero Lucas Moura Conclusione da dimenticare Questa Scarsa coordinazione Postura del corpo Disorganizzata E' normale che ne uscisse fuori Un tiro del genere Riconquista palla Intercettando la traiettoria Del passaggio Lo ferma Ma non controlla Bravo qui a smarcarsi Hakimi Hakimi Si guarda intorno Vediamo se fetta qualcosa Oblak Palla ancora in gioco Occhio al contropiede Non so mica come l'abbia presa Pierre Mamma mia Ha compiuto davvero Un intervento straordinario C'è spazio per il cross Alain E il pallone finisce in rete Si è coordinato E ha calciato in porta di prima Un gol bellissimo Il putteggio adesso E' di 2 a 1 Alain Nengolan Teio La smista su Alexandro Spezzata qui l'azione dell'Albia E' il culo a Guero Terma tutto il difensore Bravissimo qui C'è spazio per la ripartenza Deulofeu Ma non granché il cross La difesa a vita facile E sarà calcio ad angolo Occhio al cross in mezzo L'aveva indirizzata bene Ha alzato leggermente la mira Pallone sopra la traversa Bel tentativo Un pino impreciso Lecce bene la traiettoria qui C'è spazio per Mertens E la sua avanzata Occhio a Nengolan E' il culo a Guero Razia Nengolan Immobile Occhio al contrapiede qui Si libera la grande Conclusione che è uscita davvero in un soffio Un po' di precisione in più qui E ora staremo Celebrando il contrapiede perfetto Allen E' il culo a Guero Lucas Moura Va con il possesso palla Dries Mertens Buona qui la lettura del difensore Mertens Dare spinta di Oblak Attenzione Non è stata abbastanza lucido Nell'occasione di prima Queste palle goal Vanno sfruttate Se vogliono arrivare al pareggio Cante Ciro Immobile Lautaro Martinez Sicuro Intervento del portiere Dries Mertens C'è un minuto ancora da giocare De Olofeu Gran dribbling E si chiudono qui i primi 45 minuti di gioco 2 a 1 il punteggio A dunque inizio il secondo tempo di questa sfida della FUT Champions Weekend League Ed è qui che si decide ora la partita Non cambiate canale Mi raccomando El culo a Guero Può impostare Sergio Ramos Diego Carlos De Olofeu La controlla Canté El culo a Guero C'è il tocco su Allan Direttore di gara non interviene qui Lascia correre Occhio al traversone Attenta qui la lettura del difensore Occhio al corner Sventa il pericolo e allontana Libera di testa a lato Cante Lautaro Martinez Palla recuperata dagli avversari Ha disputato una buona prova Nei primi 45 Certamente fra i migliori Può essere contento Per aver dato il vantaggio alla sua squadra Vedremo se riuscirà a farne altri Nella ripresa per chiudere i conti Occhio a Mertens Hakimi Li porta via bene il pallone Attenzione Immobile Hanno l'occasione Attenzione Per trovare il gol del pareggio Manca la rete del pareggio Normale la disperazione C'è l'occasione Non vanno buttate al vento Palla che torna in possesso E' il culo a Guero Ragiana Ingolan Ancora un passaggio perfetto Deulofeu Può metterla dentro Vediamo cosa fa ora C'è il contrasto Può provare E' il pallone in rete Il pressing qui ha dato i suoi frutti Permettendo di Recuperare palla E battere il portiere Ci viene riproposto Il replay dell'azione Che ha portato al gol Rivediamolo Tutto è nato da questa palla Recuperata Grazie al pressing Della squadra Diego Carlos Pallone che torna agli avversari A metri davanti a Sam Hertens Intercetta bene Alla palla del vantaggio Tentativo di pressing Riconquista il pallone Immobile Occasione per Mertens Tron scontrollato senza problemi Si riprenderà dunque con il corner Ottima chance per portarsi avanti La mette in area Possono sfruttare questa occasione Per portarsi avanti I tifosi ci credono Partono in contropiede A spazio davanti a sé C'è una buona occasione E Andanovic Dice di no Cross verso il centro dell'area Buono l'intervento del difensore Che spazza via Potrebbe crossare C'è sostanziale equilibrio in campo La conferma ci viene anche data Vediamo dal Possesso palla Si Match aperto a qualsiasi risultato L'impressione è che le due squadre Non si accontentino del pari E vogliono provare a vincerla Fino alla fine Finora ci hanno fatto divertire con gole Douglas Costa Ecco il gol Implacabile qui Portiere battuto Ha optato per la Precisione la colpita con la parte interna del piede Mettendola alle spalle del portiere Come possiamo apprezzare meglio Nel replay Carlos Soler Da legge bene Kanté Douglas Costa Deulofeu Sventa qui la minaccia Occhio al Kun Può metterla da lì Vantaggio che comincia a farsi importante Due gol da recuperare Una per gli avversari E ancora presto però Per cantare vittoria Eh si fa dura per loro Anche perché Oltre a tentare di segnare Devono fare attenzione A non subirne altre Impresa Non facile Per quanto si è visto Finora Palla che torna nuovamente In possesso degli avversari Dries Mertens Efficace fin qui i passaggi Politano Pallone riconquistano gli avversari Prova l'Albion Grande intervento del difensore Ancora 600 secondi alla fine Occhio a Mertens Grande intervento del difensore in area Palla riconsegnata agli avversari Si è fatto trovare al posto giusto qui Palla recuperata da Romagnoli Douglas Costa Grande tackle difensivo Koulibaly Occhio a Mertens C'è spazio per la ripartenza Entrata che immagino Verrà punita con il Giallo C'è una munizione in arrivo per lui Mi pare che incassi di buon grado Il Giallo Sa che l'arbitro ha ragione Kanté spezza la manovra È una diga oggi Douglas Costa È iniziato il conto alla rovescia 60 secondi da giocare Recupero minimo Quello concesso dal direttore di gara A campo l'Albion Vediamo se sfrutta questa occasione A campo l'albion Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.